Un padre, un padre per tutti noi, assolutamente sì, oltre che grande uomo è un grande professionista perché non voglio dimenticare quello che è successo a Bologna con Lionello Manfredonia e quello che è riuscito a fare Giorgio Rossi, oltre che persona stupenda, grande professione nel suo lavoro. Voglio ricordare quello di Lionello Manfredonia a Bologna, quando la lingua andava dentro e Giorgio è riuscito, la sua professione, a tirarla fuori e salvarlo. Per uno questo affetto è il segnale di quanto gli hanno avuto bene e di quanto più bella ha fatto. Ma Giorgio, era tutto per noi, perché Giorgio, insieme poi non dimentichiamo Fernando Favri e di quanto gli anni diventa accompagnatore, la persona non ti fa mancare mai nulla, ti dava sempre dei grandi consigli, sempre disponibile, un padre, un padre per tutti.